Sulla questione dei rifiuti aquilani a Sulmon alza la voce anche l'SM, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti comunali, dopo i vari interventi anche di natura politica, l'azienda ha detto la sua, replicando al consorzio. L'azienda insomma non ci sta ad essere inserita nell'elenco dei debitori e parla di calcoli errati. Per il Cogessa l'SM deve al consorzio 1,1 milioni di euro per i rifiuti conferiti nella discarica di Noce Mattei, in passato di cui 770 mila per l'annualità 2021 e 2022. Calcoli errati ha mandato a dire massimi per due motivi. Il primo è che le fatture mensili emesse dal Cogessa vengono pagate con regolarità ogni 60 giorni. Il secondo è che gli importi delle fatture 2021 e 2022 sono errati, perché calcolati per l'SM in maniera diversa rispetto al contratto di riferimento. Il riferimento è la tariffa applicata per il conferimento dell'indifferenziato, vero terreno di scontro. Per il consorzio di Sulmona l'Aquila avrebbe dovuto pagare 120 euro a tonnellata nel 2021, 136 nel 2022. L'SM fa presente invece che l'importo contrattuale stabilito è pari a 110,32 euro a tonnellata, importo che non può essere cambiato se non con il nuovo contratto, perché il vecchio è ormai scaduto il 31 dicembre del 2022. La tariffa da applicare è uno dei motivi che sta ostacolando il rinnovo del contratto tra SM e Cogessa. L'SM però ha necessità di sedersi a tavolo ed è disposta a rinegoziare, purché avvenga presto e si trovi una soluzione. A noi dell'SM non è che abbiamo fatto polemiche, stiamo cercando di definire la situazione. In più di un'occasione abbiamo tentato di definirla e speriamo che presto possa parlarne con il nuovo amministratore unico e tentare e secondo me trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti. Nell'ambito della rinegoziazione è evidente che ASM sarà disposta ad aumentare la tariffa, perché è una tariffa di 5 anni fa, quindi sono accadute molte cose, è aumentato il costo delle materie prime, quindi è evidente che un aumento ci sarà. Il problema è verificare quanto questo aumento può essere sostenuto da noi e quanto aumento invece vorrebbero loro e trovare l'equilibrio fra le due situazioni. Noi facciamo i pagamenti a tempo ogni 60 giorni ed è evidente che stiamo parlando anche di cifre piuttosto elevate, anche se di natura mensili. Il Corgesa matura mensilmente dei crediti e noi paghiamo questi crediti, queste somme ogni 60 giorni.